Scancanato ragazzi, e se vi dicessi che potreste vedere il Kraken su Google Maps, mi credereste? Bene, gustatevi questo nuovo video. Aspettate, aspettate, aspettate. Prima volevo raccontarvi la storia. Il Kraken è una leggendaria creatura marina, che da secoli colora le storie di ogni parte del mondo. Una piorva di 30-40 metri, non sempre aggressiva, affamata di navi e di marinai. Siamo in Antartide, più precisamente nella Deception Island. Qualche fortunato, zoomando con il satellite di Google Maps, ha rinvenuto la testa del Kraken. Mi sono chiesto se la storia fosse vera o falsa, e così ho acceso il mio computer, e... Sono andato su Google Maps. Ho inserito le coordinate che verrete sullo schermo, e incredibilmente mi sono trovato davanti agli occhi la testa del Kraken. Lunga 48 metri e larga 24. Ebbene, amici miei, non si tratta della testa del Kraken. Si tratta di un complesso roccioso, la Sail Rock. La forma della roccia è quella di una vela. Si alza 30 metri sopra il livello del mare.